Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 27 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi una rettifica brevissima noi facciamo anche le rettifiche quindi sbagliamo ogni tanto sbagliamo abbiamo ringraziato con cuore Alberto Frisia che ci ha regalato a Leonardo artisti George Balash in copertina a me Edgar Vares di cui abbiamo parlato ieri nel caso Sacher Paul Sacher allora dobbiamo fare una rettifica anche se per me lo meriterebbe anche lui nei giusti del Monte Stella il giusto non è lui ma suo fratello suo fratello che si chiama Nino Frisia Barnabita classe 1932 si è spento nel 2009 perché questo signore ha trascorso in Guanda e in Zaire moltissimi anni 35 e si è distinto per la sua straordinaria umanità e generosità mi viene da dire che la famiglia Frisia è una famiglia perfetta per il nostro almanacco perché c'è tantissima bellezza possiamo incominciare veramente dove si è andata a cacciare la capitale della Russia alla fine del mondo strano popolo il russo c'era la capitale a Kiev no signore ci faceva troppo caldo troppo poco freddo passò a Mosca e anche qui ci faceva troppo poco freddo e allora andiamo a San Pietroburgo o signore che differenza fra la madre Mosca e il figliuolo lei Mosca è restata fino ad oggi una vecchia barba russa lui Pietroburgo è già un accorto europeo ha davanti da tutte le parti qualche specchio la nieva o il golfo di Finlandia non è che gli manchi dove contemplarsi allora questo è un articolo che canzonava allora la decisione di Pietro il grande di spostare di trasferire per l'ennesima volta la capitale non ha citato Novgorod della Russia che appunto era stata prima Kiev o Mosca a San Pietroburgo un'operazione faraonica un'operazione anche crudelissima dal punto di vista della della genesi della costruzione di questa capitale in un luogo così infame come si presentava diciamo in quel momento ci sono delle delle caricature straordinarie che danno il senso di quanto fosse stato crudele e iniquo Pietro il grande che voleva in qualche modo spossare era crudele anche se era un gigante faceva le naumachie e ogni tanto un suo migliore amico moriva è così perché durante queste queste battaglie navali così giocattolo ma infatti si chiama roulette russa perché c'è un fatalismo in quella cultura che non a caso ha portato a queste cose mi viene molta tristezza parlare di San Pietroburgo in questo momento perché diciamo è una cultura che che si è e che ci è negata diciamo in tutti i due i sensi e sembra di parlare di qualcosa che non esiste in realtà è lì e come peggio della guerra fredda noi siamo impediti di poterla ammirare di poterla visitare però speriamo che in tempo non troppo lontano si torni ad avere confidenza con questo mondo meraviglioso meraviglioso lo speriamo davvero senti leonardo a questa città è dedicato al nostro manaco perché proprio oggi ricorre la la data della sua fondazione 27 maggio del 1703 e mi viene anche da dire che in qualche modo pietro che aveva imparato a fare lo zar girando l'europa in particolare l'olanda aveva preso anche ad esempio luigi 14 sì sì cioè anche ramset ma pietroburgo san pietroburgo pietrogrado come poi si chiamerà fino a essere leningrado o peter come la chiamano in maniera molto confidenziale i suoi abitanti era servita a spossare i boiari o boiardi tutti si tagliavano la barba rimangono i baffi però rimangono i baffi era più che Versailles in qualche modo cioè spostare una capitale dove non c'era nulla beh molto di più perché Versailles sì è un'operazione urbanistica però di fondo è una reggia qui si tratta di una città una città da niente a cui andavano allacciate strade tutte le necessarie diciamo strutture che fanno parte di una di una città di una capitale che quindi doveva ospitare tutta la tutta la corte e la burocrazia ecco che cos'è questo il grande processo di occidentalizzazione e di superamento del medioevo che poi per altri aspetti sarebbe rimasto fino a oggi fino a oggi perlomeno fino alla fine dell'ottocento in una moderna e forte potenza che appunto si ispirava ai modelli europei lui aveva l'obiettivo di creare un ponte tra la Russia e l'Europa un ponte che avesse una forza politica ed economica e San Pietroburgo quell'area era perfetta per questo disegno Pietro fece iniziare i lavori dalla fortezza come si fa sempre dei santi Pietro e Paolo il Louvre è costruito intorno a una fortezza cioè tutto nasce dalle fortezze la bastiglia russa la chiamava la zona paludosa selvaggia al centro della nieva l'imponente fiume che viene addomesticato che ricostituisce il sistema circolatorio della città che poi sfocia nel golfo di Finlandia tant'è che questa posizione strategica dal punto di vista militare fa sì che San Pietroburgo fin dall'inizio diventi oggetto di contesa con la superpotenza che aveva mostrato la propria capacità nella guerra dei trent'anni cioè la Svezia e infatti sappiamo della famosa guerra del nord poltava eccetera resta il fatto che oggi San Pietroburgo non è più la capitale anche se è la città prediletta dello zar questo sì perché lui è di lì e devo dire che gli si deve molta dell'attenzione che anche negli ultimi anni ha proseguito i restauri per cui oggi San Pietroburgo è una città scintillante persino troppo perché Putin ne ha fatto per anni la vetrina degli incontri anche con i grandi con i grandi leader internazionali ed è anche il porto più importante del paese il primo nome è Sankt Peterburg e viene appunto dalle esperienze olandesi dello zar perché Pietro forte della suggestione che aveva appunto avuto dalle sue esperienze in quelle terre si lui vede delle città che sono sostanzialmente delle città di laguna quindi Amsterdam c'è un esempio che si può imitare anche Venezia se vuoi è un altro caso abbastanza analogo canali che derivano dalla posizione di incrocio tra mare e laguna bravo Leonardo tu puoi finire andare a San Pietroburgo d'inverno o d'estate? D'inverno fa molto freddo però è il momento perfetto per la vodka perfetto d'estate possono esserci molte zanzare perché l'atmosfera è abbastanza malsana però c'è il sole di mezzanotte e le notti bianche esatto succedono delle cose nelle notti bianche. Per Pietro il Grande San Pietroburgo è il superamento della vecchia Russia e in Anna Karenina Talstoi affida le due città della Russia a due personaggi molto bello perché la mondana sfarzosa antica Mosca è il passionale traditore stiva mentre San Pietroburgo è l'asciutto e potente burocrate Karenin la razionale modernità. Nel corso del settecento la città è un cantiere infinito vengono costruite chiese persino moschee palazzi imperiali primo museo di Russia il palazzo Menshikov i 12 collegi con la scuola russa di danza classica la prima filarmonica conservatorio il Marinsky e poi il palazzo d'inverno residenza ufficiale degli zar a Eisenstein e l'ermitage che meriterebbe una puntata la faremo a parte. Nella visione di una moderna e magnificente capitale europea non poteva mancare la grande arteria allora gli Champs-Élysées o pensiamo alla Gran Via di Madrid beh la prospettiva Nievski. Sì a Milano che grande arteria c'è? Corsi Buenos Aires. La prospettiva Nievski che è il protagonista del racconto di Gogol non c'è niente di più bello della prospettiva almeno a Pietroburgo per questa città la prospettiva è tutto. Di che cosa non brilla la strada regina della nostra capitale? Mi risulta che nessuno dello squalido impiegatizio popolo che abita la città non darebbe la prospettiva contro tutte le felicità di questo mondo. Hai capito? Solo i russi possono scrivere così. E poi conclude. E alle dame? Oh alle dame piace anche di più la prospettiva. Va bene Leonardo. Un giorno sulla prospettiva Nievski per caso vi incontrai Igor Stravinsky? 1712 capitale trasferita a San Pietroburgo cosa che determina l'ingresso di maggiori entrate la quinta architettonica si anima. Il presepe si anima. Cambia una città che cambia dal nome olandese tedesco diventa semplicemente Pietrogrado. Pietrogrado è come i Windsor che smettono di chiamarsi Hannover perché fanno la guerra alla Germania. Esatto. Si toglie il burgo arriva e quindi la città di Pietro in onore al suo fondatore poi diventa Leningrado alla morte di Lenin esattamente cento anni fa nel 1924 quando già non era più capitale e poi nel 1991 alla caduta del muro questa città un po cadente come era quando la si visitava allora ritornò a essere San Pietroburgo e appunto chiamata comunemente dai russi Peter con un'eccezione. Perché il 9 maggio di ogni anno torna a chiamarsi Leningrado e in memoria della vittoria su Hitler con tanto di sinfonia composta da Shostakovich la Leningrad. Nei secoli San Pietroburgo è stata l'epicentro di molti episodi che avrebbero cambiato le sorti di tutta la Russia è stata l'avanguardia dei principali movimenti sociali culturali e politici e ricordiamo i moti che ebbero lì luogo nel 1905 i decabristi e la domenica di sangue e poi le rivolte del 1906 l'esilio di Lenin e poi 1917 a causa della pessima situazione bellica del paese l'inizio Occhiobre e si è andata a San Pietroburgo è ancora ormeggiata in bella vista io l'ho anche visitata. Lei è anche pilotata? Non mi hanno dato permesso non avevo come il patentino. C'erano i sigilli L'aurora da cui è iniziato tutto. Senti Leonardo il 25 ottobre Pietroburgo è anche il teatro della famosa presa del palazzo d'inverno che è un momento simbolico della rivoluzione. Eisenstein ce lo racconta genialmente perché quando sfondano i proletari entrano per un attimo rimangono fermi, folgorati dalla ricchezza delle malachiti. Poi il famoso montaggio analogico fa sempre vedere questi cancelli che un po' le massi che premono. Vogliamo ricordare anche il già citato assedio tedesco alla città che fu un episodio di resistenza formidabile con però a che prezzo? fu un prezzo enorme quello pagato dagli abitanti di Leningrado. 872 giorni di resistenza, 872 giorni in condizioni inaudite. C'è la famosa testimonianza delle lastre che vengono sciolte per fare il brodo perché c'è la colla di pesce e dei cadaveri che vengono lasciati sulle barelle d'inverno perché la temperatura ha raggiunto dei tali livelli che è come i bernali. Ci sono ricordi di sceneraccapriccianti e anche il luogo San Pietroburgo dei pasticcini con cui si tentò di avvelenare l'orso bruno. Yusupov. Yusupov e Rasputin o Rasputin che dir si voglia. È una città di enorme malinconia per quanto mi riguarda e anche però molto interessante se uno attinge a quella che si chiama archeologia della memoria nel senso che è una città di case vuote. Cioè è una città di palazzi meravigliosi e splendidi di un'aristocrazia che fuggì. Che fuggì. Quindi in questo diciamo è un grande set cinematografico però i palazzi sono salvo qualche eccezione, qualche edificio che è stato diciamo risistemato come museo, i palazzi sono vuoti e questa è un po' la differenza con il mondo occidentale. C'è un po' la delusione di questa distonia tra un lusso incredibile che però non esiste più. C'è un museo tra gli altri che merita di essere visitato che è il Museo Russo dove oltre al suprematismo di Malevici potete ammirare le tele stupende di Ilya Repin e c'è la letteratura. Allora noi abbiamo citato Gogol, abbiamo citato Tolstoi, non possiamo non citare Pushkin che in lungo e largo racconta questa città, è lì la statua di Pietro il Grande a cavallo per esempio, ma è lì anche Oniegin e poi Dostoievski e le sue notti bianche. Ed è proprio con le parole innamorate di quest'ultimo che vogliamo salutare questa grande Venezia sulla neva non dimenticando anche tutti i meravigliosi musicisti che nell'ottocento sono stati protagonisti di questa capitale assoluta della cultura. Di Pietroburgo conosco anche le case. Quando cammino mi sembra che ognuna di loro mi venga incontro correndo per la strada, mi guardi e stia per dirmi salve. Come va la salute? Anch'io grazie a Dio sto bene e a maggio avrò un piano in più. Tra loro ci sono le mie preferite, le mie amiche intime. Una di loro vuole farsi curare quest'estate da un architetto. Passerò apposta ogni giorno perché non me la curino male per l'amor di Dio, ma non dimenticherò mai la storia di una bellissima casetta color rosa chiaro. Color rosa chiaro e quindi ci affidiamo a Lucchino Visconti che l'ha girato però a Cinecittà pensando a Livorno. Grandissimo. Io vorrei farti dormire ma come i personaggi delle favole che dormono per svegliarsi solo il giorno in cui saranno felici. Ma succederà così anche a te. Un giorno tu ti sveglierai e vedrai che è una bella giornata, ci sarà il sole e tutto sarà nuovo, cambiato, limpido. E prima di fare il finalino qua con le mie sei ballerine sei ti voglio raccontare qualche piccola stupidaggine così dati via un po' più contenti eh. Oh dunque una piccola storia c'è un tale che entra in una trattoria ordina mezzo litro di vino, due uova sode e quando va via tutte le fanno buonasera signor pompiere. Cos'è? Un tale entra in una trattoria ordina due uova sode, mezzo litro di vino, quando va via tutte le fanno buonasera signor pompiere. Cos'è? Che? Eh? Perché? Era in divisa? Scusate quello perché mi ha interrotto se no la storia era mica questo qua. Allora in ogni modo sapete chi è stato il primo che ha battuto carnera? Suo padre quando era piccolo. Cosa fa il birichino? Ciao papè. Oh un altro sto di dire così, va che spetta così. Oh questo è il tabaccaio no, quella lì non si può dire. Allora dunque aspetta un momentino. Ah dunque questa qua è bellissima. Rido già io quindi figurate voi. Dunque sapete che differenza passa fra la fredura, il rasoio e il pepe? La fredura fa ridere, il rasoio fa rodere e il pepe? Fa rodere. Ecco ci ha fallito così un'altra volta in panica a rompere la gente che sono qui sul lavoro. Erminio Macario, celebre attore di rivista, interprete di alcuni tra i film più comici e significativi del cinema italiano, nasce il 27 maggio del 1902 a Torino. Allora noi lo conosciamo come Macario, ha calcato le scene per 60 anni, teatro, cinema, la televisione, la rivista. Aveva quest'aria un po' sbarazzina, un po' fiabesca, un po' furbesca, che è rimasta nell'immaginario collettivo per molte generazioni, ci piace parlarne oggi. Era una maschera gentile, educata, un po' triste, aveva questi occhi arrotondati, la faccia a guscio d'uovo. Si dice che il ricciolino sulla fronte glielo avesse addirittura suggerito Ettore Petrolini. È rimasto famoso per questa comicità molto candida, molto surreale, un umorismo lieve, appunto velato da una certa malinconia, tristezza, poi con questa inflessione piemontese e naturalmente le donnine di Macario. Le belle ragazze. Perché effettivamente Macario aveva sempre intorno un sacco di belle donne, le chiamavano le donnine, in realtà erano alte, il doppio di lui, avevano delle gambe che non finivano mai ed erano molto belle. Allora lui inizia a recitare da ragazzino, a 18 anni entra in una compagnia, gli chiamavano gli scavalcamontagne, perché in piemontese vuol dire che erano quelle compagnie di giro, ma che dovevano scavalcare le montagne per raggiungere i paesi durante le feste popolari. Poi si passa al teatro di prosa e poi a quello di varietà. Nel 1925 lui viene notato da una subretta, Isa Bluet, che Piero ha conosciuto in tarda età, non tua, sua. No, no, sua, sai che io. Vol di inverno. No, no, vabbè, ho capito. Va bene. Allora, lei lo scrittura come comico grottesco e nasce una copiata, quella della maschera claunesca che si accompagna alla bella Subrette, che poi sarà un po' il leitmotiv di tutta la sua carriera. Lui nel 1930 fonda una propria compagnia teatrale che resterà in vita per oltre 30 anni. Nel 1937 scrittura Vanda Osiris, con lo scalone, con cui forma la coppia più famosa degli spettacoli di genere. La coppia Macario Osiris mette in scena una delle prime commedie musicali italiane, Piroscafo giallo, di Macario, Rip e Bellamy. E poi insieme a Macario appunto diventano famose le sue tante girls che noi appunto chiamiamo donnine, ma donnine non erano. Senti Leonardo, noi vogliamo però goderci, lui con la splendida Sandra Mondaini. Non posso farvi entrare in camera mia a quest'ora? Se mio padre lo sapesse piangerebbe dal dolore. Allora vieni tu in camera mia, che a mio padre non mi ne preda niente. Amletto, giurate che sarete buono e mi rispetterete? Ma certo, come no? Che cos'è? Pijama. Allè, qui. Cosa vuol dire qui? Qui, 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 qui. Nel letto? Sì, sì. A fare? Amletto, voi siete buoni? Sì, pazzo sì, ma se non mi casciamo. Ophelia andiamo, sì, doma, sì. Vi piacerebbe, povero cocco, ma io sono ancora pur e libata. Io ci metterò tutta la mia buona volontà. Amletto, che cosa state tramando? Un tremendo incubo incombe sopra la Danimarca. cercando un certo ricambio, diciamo. Anche perché vuol darsi un po' di lustro. Sì. Ricordiamo alcuni nomi. Sandra Mondaini. L'abbiamo vista. Margherita Fumero. Lea Padovani. Le sorelle Nava. Marisa Maresca. Lauretta Masiero. Dorian Gray. Flora Lillo. Flora Lillo, tu. Beh, certo. Valeria Fabrizi. Lucy Dalbert. Negli anni 40 lui prosegue la sua attività in teatro con grandi successi. Amleto, che ne dici? Febbre azzura. Le follie di Amleto e poi le educande di San Babila. Leonardo ne sa qualcosa. Sì. Diventa il protagonista più famoso di questo genere e tanto da essere consacrato come il re della rivista e interpreterà decine di titoli davvero improbabili. Beh, uno lo conosciamo bene. È bellissimo. Vado in tettonia. Poi c'è Cavalcata di donne. Votate per Venere. E, pensate, parte una tournée in Francia dall'esito trionfale, però dai costi esorbitanti. Vi do un esempio. I materiali di scena per la bisbetica sognata occupavano 19 vagoni ferroviari. Tu pensa che cos'era la rivista. Costumi sfarzosi, le musiche brillanti, la bellezza delle donne, sul palco regalano al pubblico un mix di comicità farsesca e anche di grande sensualità. Sì. Perché... Comicità a volte era abbastanza. Sì, va bene, però, insomma... Lui del Finesse in Francia potrebbe aver visto Macario. Però è più contemporaneo. Sì, non c'è dubbio. C'è un incasso record con Made in Italy che, tra l'altro, segna il ritorno della coppia Osiris-Macario e poi Tutte donne meno io, in cui lui è l'unico uomo circondato da ben 40 le cosiddette donnine. Ci sono i titoli di alcuni spettacoli indimenticabili. Che Piero riguarda... L'uomo si conquista la domenica. Sì. Non sparate alla cicogna. E poi... E tu, biondina? E chiamate Arturo 777 di Corbucci e Grimaldi. Dagli anni 30 agli anni 50 Macario recita anche per il cinema e firma alcune sceneggiature. Interpreta due film di Mario Mattoli. Uno l'abbiamo visto, imputato alzate. Sì. Lo vedi come sei, lo vedi come sei. La loro comicità surreale era probabilmente ispirata a alcune gag dei fratelli Marx. E nel dopoguerra ci sono quattro film del concittadino Carlo Borghesio, come Persi la guerra, L'eroe della strada, come Scopersi l'America. Il monello della strada. Il monello della strada. Che in qualche modo annaquarono e imborgesirono la sua comicità. Però che fu uno dei campioni di incasso. È bello poi ricordare che in quell'Italia c'erano i caratteri delle città. Cioè c'era Fabrizi, c'era Macario, c'era Totò. C'erano le città italiane. Roma, Torino, Napoli. Lo dice con un filo di nostalgia. Beh certo, io sono sempre nostalgico. Attenzione. No, non quella roba lì, caro. Ci sono tante nostalgie possibili. Non c'è dubbio. I titoli oggi fanno sorridere. Fanno tenerezza. Il fanciullo del West. Io Amleto, che tra l'altro portò al fallimento della Macario Film. L'Italia piccola però di Mario Soldati. E addirittura un film francese dal titolo veramente un po' emblematico. Io, mia moglie e la vacca. Che ebbe un ottimo successo di pubblico. Senti Leonardo, non possiamo non citare un sodalizio molto importante. Sì, con Totò. Quello con Totò sono... Sei film tra il 59 e il 63. La Cambiale, Totò di notte numero uno, Lo smemorato di Colleno. Meraviglioso. Meraviglioso. Totò contro i quattro, il monaco di Monza e Totò sexy. Il suo personaggio era l'omino candido e sempliciotto che viene calpestato da tutti ma che poi alla fine l'ha quasi sempre vinta perché ha buon senso e perché è più forte diciamo della prepotenza, della presunzione degli altri. E ricordiamolo, lui stava replicando Opla giochiamo insieme alla sua ultima fatica teatrale. Viene colto da un malessere e si scopre essere affetto da un tumore. Si spegnerà a 77 anni nella sua Torino il 26 marzo del 1980. Si spegnerà in punta di piedi portandosi appresso il ricordo delle sue mille donnine. Un grandissimo personaggio del nostro spettacolo. Erminio Macario. E una settimana che studio non riesco non riesco a infilarlo nel buco capisci? Ma com'è possibile scuso? Ma com'è possibile? È la velocità del pensiero. Ma non mi fa ridere. Prova. Provo. Prova tu poi vedi se hai il pensiero veloce. No no no. Sì sì ma spesso. Ehi. Orco. Come hai fatto? La velocità del pensiero. Ma che ti sei ammattito? No io no. Io sto guarito. Anzi fra poco esco. Già è vero. Eppure vedi Nicola mi dispiace che te la vai. Oramai mi è raffiatato con te. Eh vabbè anche a me mi dispiace. C'è chi metterà nella mia stanza al posto tuo. Sì ma non prendertela su. Anche se io volessi rimanere cosa vuoi non mi tengono. Han bisogno di tanti posti capisci. Hai ragione. E già con tutti questi matti che stanno in giro nel mondo. Alle nostre spalle c'è la gallina spenta e il libro. Se qualcuno di voi dovesse comprarlo nelle prossime ore riceverai in omaggio anche questa locandina che può mettere sul cofano dell'automobile. Va bene? Mi piacciono questi gadget. Le è simpatic come al mel et panza. Che vuol dire è simpatico come il mal di panza. Ma oggi 27 maggio è il compleanno del più simpatico di tutti a cui noi vogliamo fare i nostri carissimi auguri perché oggi è il compleanno di Vincenzo. Quindi caro Vincenzo sei davvero il numero uno. Posso mettere anche gli applausi sotto quelli? Grande Vincenzo. Grande Vincenzo. E tu? Domani purtroppo invece è un anniversario molto triste. Sono i 50 anni di uno dei momenti più drammatici della storia d'Italia. La strage di piazza della loggia a Brescia. È uscito un libro di Paolo Biondani, la ragazza di Gladio e altre storie nere per i tipi di fuoriscena. La nuova casa editrice del gruppo RCS e va bene siamo sempre lì. Ha scritto Gian Antonio Stella sul Corriere. Mezzo secolo dopo il libro in cui Paolo Biondani, cronista e inviato del Corriere della Sera e poi dell'Espresso, ricostruisce decenni di bombe, indagini, omicidi, arresti, confessioni, depistaggi, coincidenze stupefacenti e infami omertà, lascia la bocca amarissima. Ti chiedi, possibile? Possibile che 50 anni dopo sia ancora aperto il cold case di quell'attentato di Namitardo che il 28 maggio del 1974 uccise 8 persone e ne ferì altre 102? Se il 30 maggio, cioè tra tre giorni, si aprirà finalmente il processo al veronese Marco Toffaloni che vive da anni in Svizzera col nuovo nome di Franco Maria Muller e all'epoca aveva solo 16 anni, infatti finirà da 66enne davanti al Tribunale dei Minori ed è considerato l'esecutore materiale che mise la bomba nel cestino dei rifiuti in concorso con altre persone tra le quali Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, già giudicati separatamente e condannati all'ergastolo e con l'ormai cittadino americano Roberto Zorzi che da quei tempi vive a nord di Seattle da dove sbeffeggia la giustizia italiana con l'allevamento di Doberman battezzato Littorio. Che paura! Che paura! Siamo stati anche a questo. Meditate. Quindi consigliamo la lettura del libro di Paolo Biondani, La ragazza di Gladio e altre storie nere. Fuori scena. A domani. A domani. Al manacco di bellezza, a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini. Con Lucia Simeoni, Stefano Puppini, Jacopo Milardotti, Paolo Faroni, Riccardo Cassani, Greta Torresi, Samantha Chiodini. Realizzato da Amerigo Daveri, Valentino Puppini, Luigi Consolandi, Stefania Margheritti, Alessandro Puppini. Prodotto da Piero Maranghi, una produzione classica HD. Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo.